Tre punti d'oro sono quelli conquistati dal vasto Girardi ai danni del Rieti. Tre punti meritati arrivati grazie al rigore trasformato da Mercai che proiettano la squadra di Prosperi a quota 7 in classifica generale. Nel silenzio dell'acqua Santiani di Trivento, si è giocato a porte chiuse, la direzione arbitrale è affidata al signor Gagliardini di Macerata. Con il montaggio di Antonio Trotta andiamo alla cronaca. Al tredicesimo palla tagliata di Guida in area per Mercai che non arriva per questioni di centimetri all'appuntamento con la sfera. 8 minuti più tardi ci prova ancora la squadra di casa, la conclusione di Guida dalla distanza si spegne a lato. Il Rieti fa fatica ad imbastire azioni pericolose e rischia di capitolare alla mezz'ora quando Mercai percorre praticamente tutto il campo prima di offrire a Guida. La difesa laziale si salva. Le due squadre vanno così negli spogliatoi a reti bianche. La ripresa si apre sotto i peggiori auspici per il Rieti. Passano 30 secondi ed Elefante si ferma per problemi muscolari. Mister Campolo è costretto ad estrometterlo dalla contesa. Al suo posto Mattei. All'undicesimo va sto girardi sul pezzo con lo scambio Mercai-Guida e conclusione alta di quest'ultimo. Minuto 17. Sulla sventola di Pacciardi Saglietti si supera e deve in corner. Sul seguente angolo Ruggeri schiaccia di testa ma la conclusione è debole e l'estremo difensore reatino blocca. Gli ospiti rischiano ancora al ventesimo quando Gualtieri appoggia indietro di petto al suo portiere che è fuori posizione ma riesce a salvarsi. La formazione laziale si fa vedere dalle parti di guerra al ventitresimo con Tirelli. La sua conclusione viene deviata in corner. Il vasto girardi spinge forte sull'acceleratore e sfiora il vantaggio con una serpentina di guida servito da Camarà. Conclusione alta di un nulla. Vantaggio che arriva poco più tardi quando guida assiste splendidamente in profondità Mercai. L'attaccante viene steso in area da Gualtieri. Per Gagliardini è rigore ed ammunizione del difensore reatino. Dagli 11 metri si presenta lo stesso Mercai che batte Saglietti. Vasto girardi 1 rieti 0. Per i laziali piove sul bagnato perché dopo 60 secondi lo stesso difensore Gualtieri ferma con le cattive guida e il direttore di gara gli mostra il secondo giallo spedendolo anzitempo sotto la doccia. Nel finale il rieti si fa pericoloso per la seconda volta in attacco con un calcio piazzato di Tirelli e palla che si spegne di un soffio a lato. Il vasto girardi festeggia i tre punti e si proietta così nella maniera migliore possibile al derby del Civitelle di domenica prossima.